Passare una giornata al mare assieme alla propria famiglia per molti ragazzi è una cosa di ordinaria amministrazione in questo periodo. Partire da casa, arrivare nei pressi della propria spiaggia, parcheggiare e raggiungere il mare, finalmente per godersi lo svago, il sole e l'aria di mare. Ma non per tutti è così. Questa routine quotidiana per alcuni di noi, meno fortunati, si trasforma in una sgradevole e pericolosa corsa ad ostacoli, schivando una distesa infinita di buche, alcune molto profonde, altre anche piene d'acqua, pozzangheroni e diversi metri di asfalto mancante scosceso, subendo sobbalzi e scossoni, con il rischio anche di perdere l'equilibrio. La famiglia Angeletti di Bellocchi, assieme al suo figlio Angelo, un ragazzo espansivo, dalla bella chiacchiera veloce, sorridente e solare, ma costretto dalla sua disabilità su di una sedia a rotelle, con il suo angelo custode Gigliola, affrontano quotidianamente in questo periodo e da diversi anni ormai questo piccolo calvario. Questo una volta giunti in fondo a Viale Alcide de Gasperi, a Baia Metauro, per attraversare il piazzale dove, se gli va bene, riescono a parcheggiare l'auto munita di apposito, tagliando nell'unico stallo adibito ai disabili, che però spesso trovano occupato dalla maleducazione di insensibili utenti della strada per poter finalmente raggiungere il mare. In fondo stradale sono tutte buche, si possono evitare le buche, per carità, però può capitare anche di distrarsi, prendere la buca con un disabile e può cadere. Non ci vorrebbe neanche tanto, insomma? Odestamente no, perché l'investimento penso che sia proprio poco. Chiedete un po' di attenzione per questo posto? Beh, non sarebbe male, via, noi chiediamo un pochino di attenzione, sì. Non solo per lui, ma un po' per tutti coloro? Penso che sia per tutti, non è che è una cosa mirata solo per lui, però noi ci troviamo in questa condizione e esponiamo la nostra condizione, però penso che sia una cosa per tutti e anche visibile a tutti. Vista la presenza però di molte spiagge, sia a pagamento che liberi in questa zona, non sarebbe male aggiungere un altro stallo per disabili, ci dicono, ma questo sarebbe l'ideale. Per ora si accontenterebbero che la vita di chi ha diverse necessità dalle nostre fosse meno pericolosa e Angelo, per la sua battaglia, non ha certo paura di metterci la faccia. Caro Massimo Seri, si può chiudere le buche, per favore?